Un sacco di novità, un sacco di novità Voi non la vedete, ma è qui La nuova GoPro 11 Black I miei amici Buongiorno Arket E ci risiamo con i nostri soliti allenamenti Ormai stanno diventando una tradizione Lo so, lo so, lo so È uscito domenica scorsa l'episodio delle protezioni a Cerbis In tanti le hanno già acquistate dal sito di Evolution Bike In molti mi avete contattato per entrare un po' più nel dettaglio Di quelli che sono tutti i prodotti della linea Cerbis Dedicata alla disciplina Enduro Oggi utilizzo nuovamente questa vettorina con maniche lunghe Gomitere e spalline La Plasma Che ha avuto molto successo nel video pubblicato qualche giorno fa In tanti l'hanno già acquistata con e senza maniche Però vi prometto che a breve farò il video dedicato esclusivamente alle protezioni Accendiamo le bike Oggi giornata di allenamento Saliremo È promesso Esclusivamente In bici spenta O al massimo in eco Al massimo in eco O diciamo quasi sempre in eco Alleniamo le gambe Mamma Si può fare Si può fare Si può fare Anche se Devo essere sincero A volte sono passato Alla modalità Tour Quella subito dopo Alla modalità eco Perché i tratti erano veramente appesi Per le mie gambe Crispi A te gli allenamenti stanno rendendo Mi sa Andavi a treno Per fortuna che c'è l'archetto che mi aspetta Alla modalità eco 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 कare il parchetto conosce la linea quella giusta bellissimo di Luca marchetto va di esperienza mamma mia ma io te la sei fatta con un cazzo di litmo mamma mia sempre meglio questa linea ogni volta sempre meglio oh ma Danny si vuole rispanziare oh calma dai che cazzo con l'alpero con l'alpero che ci si è cavato ahhh 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 ehhh anche questo ahhh 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 guarda come spinge ahhh ahhh ahhhh ahhh 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 si vede che andate di fretta ha dato il colpo di coda a fine giornata di giornata ciao